ciao ma dove andrai vestita così? eh sto organizzando una sera fina con gli amici ah promette bene ma poi sarai all'altezza della situazione avrai abbastanza energia? ma sì ho fatto il pieno con il macaccino senti io devo andare adesso spiega tu che cos'è ciao amici vi è mai capitato di arrivare a metà mattina magari piuttosto a metà pomeriggio e sentirvi stanchi senza energia l'umore scende e la stanchezza sale e nasce un desiderio impellente qui ci vuole un buon caffè o un energy drink almeno eh sì il caffè è la soluzione preferita dagli italiani per tirarsi su e ritrovare la carica in queste situazioni e di recente spopola anche l'uso di energy drink ma se il caffè ha sicuramente dei benefici il suo abuso può causare danni a stomaco intestino reni e all'apparato circolatorio a causa della caffeina e per gli energy drink non ne parliamo danni allo stomaco all'intestino al sistema circolatorio ma anche al fegato che deve metabolizzare e abbattere tutti gli additivi contenuti un bel rischio per la salute cosa fare allora ci sarà un modo per darsi la carica senza darsi la zappa sui piedi sì certo che c'è è sana naturale e buonissima se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video siccome capita anche a me a volte di sentirmi stanca e sopraffatta ho cercato una soluzione che fosse trendy e sana perché io sono convinta che per le esigenze di tutti i giorni ci sia sempre una soluzione naturale e da 25 anni ho sempre avuto ragione ho cercato e ho trovato il macaccino lo fa la isvary l'azienda specializzata in super cibi che io adoro e che sponsorizza questo video macaccino sembra un nuovo gusto di starbucks no molto meglio è una bevanda solubile a base di ingredienti naturali eccolo qua si può preparare a casa concentrato in una tazzina come un espresso o come un cappuccino in una bella tazza oppure una bevanda calda o una cioccolata in tazza la maca è il suo ingrediente principale è energizzante ma non agita stimola il metabolismo ed ha energia immediata senza caffeina o altri stimolanti non ha gli effetti collaterali delle altre bevande energizzanti io ho scelto il macaccino gold perché contiene anche curcuma che è antinfiammatoria ma lo trovate anche in versione classica cioccolatosa al gusto carruba e in versione sensual perché la maca è uno stimolante naturale del desiderio e se la serata promette bene beh allora per uscire stasera mi faccio il macaccino sensual è brava così mi piace i macaccini sono dolcificati con zucchero di cocco e il loro gusto è rotondo piacevole ci danno la carica come un caffè e ci coccolano come una cioccolata calda potete portarlo con voi durante la giornata già pronto in uno shaker o in un termos o tenerlo anche al lavoro perché basta un po di acqua calda o di latte vegetale molto più sano che cercare di tirarsi su con una sigaretta o delle schifezze piene di zucchero o il sesto caffè della giornata visto quanto è facile sostituire il caffè e gli energy drink con un'alternativa sana che funziona anche meglio e ci dà tanti antiossidanti senza controindicazioni grazie simona allora d'ora in poi io e george ci facciamo il macaccino invece dell'espresso george macaccino bene amici ora che sapete come usarlo tenete il macaccino in bella vista in cucina tra l'altro anche una bella confezione e anche in ufficio vi fa fare bella figura fatelo vedere fatelo assaggiare i vostri amici e fate vedere anche questo video condividetelo e condividete anche il codice sconto simo 10 con cui potete avere il 10 per cento di sconto su tutti i prodotti della isvary ho parlato di diversi prodotti della isvary in questi video perché io li adoro li uso sempre condividere lo sconto fa bene e risparmiare fa bene alla salute per tutti info e link in descrizione amici noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ma sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ok fa bella figura se vi piace l'idea mettete subito